Benvenuti su MrGadget.tech per conoscere due smartphone veramente potentissimi, Pixel 7 Pro e Pixel 7. La ragione per cui nelle mie mani c'è solo uno dei due smartphone è perché l'altro è qui davanti e sta facendo le riprese che state guardando con una definizione 4K e tra l'altro con lo standard HDR a 10 bit, quindi davvero con una qualità assolutamente superlativa. Ma per cominciare a conoscere meglio i due smartphone diamo un occhio alla scheda tecnica, potete vedere da soli tutti i dettagli tecnici che ne sottolinano le differenze nel refresh rate e nella definizione del display, oltre che per la sua definizione, la capacità della batteria, il taglio massimo di memoria e anche la quantità di RAM disponibile. Quindi molte differenze, compreso il prezzo, 649 per Pixel 7, 899 per Pixel 7 Pro. Secondo il dettame, per cui non esiste modo migliore per conoscere uno smartphone se non farvi vedere come funziona, abbiamo portato sul campo i nuovi Pixel 7 e Pixel 7 Pro. Proviamo a guardare da vicino come funziona ad esempio la stabilizzazione delle immagini, che è veramente molto ma molto efficace e dà un effetto quasi da gimbal, da stabilizzatore professionale. E poi non solo, perché c'è anche la modalità cinema che permette di mettere a fuoco un soggetto e poi di sfuocare tutto quello che sta intorno per concentrare l'attenzione su quello che è il protagonista delle riprese. Ci sono anche delle modalità molto carine che permettono di creare un effetto di sfocatura, di movimento del soggetto, oppure al contrario ottenere il soggetto fermo e muovere tutto il resto. Ma non solo, perché in generale la qualità dei video e delle foto di Pixel 7 e Pixel 7 Pro che state guardando in questo momento sono veramente eccezionali. Abbiamo detto delle differenze tecniche tra i due prodotti, ne esistono anche di estetiche. Pixel 7 ad esempio ha la banda metallica posteriore, quella che copre la fotocamera opaca, mentre il modello Pro ce la lucida. E poi non solo, perché Pixel 7 è anche il display piatto, mentre Pixel 7 Pro offre una soluzione lucida. Però al di là di queste differenze estetiche e dei dettagli che abbiamo già sottolineato per quanto riguarda l'hardware e la dotazione tecnica, per il resto le due esperienze sono molto simili. Masagambe all'hardware come possono essere simili? La risposta è semplice, perché all'interno c'è lo stesso processore, ovvero il Tensor G2 di Google, che al di là della differenza di dotazione di RAM si comporta comunque molto bene. E rispetto al modello precedente pare che tenda a scaldare un po' meno. Questo non vuol dire che non scaldi del tutto, perché con lunghe sessioni della fotocamera o della videocamera, soprattutto con una definizione elevata, tende comunque ancora a scaldare, ma meno rispetto al Pixel 6 o al Pixel 6 Pro. Purtroppo dobbiamo rivelare però e rilevare anche qualche debolezza. Pixel 7 e Pixel 7 Pro ad esempio non garantiscono gli stessi servizi telefonici che si possono sfruttare in lingua inglese, ad esempio per bloccare le chiamate degli scocciatori, insomma delle telepromozioni, oppure per chiamare dei servizi, quelli che hanno gli alberi di navigazione. Pensate che Pixel 7, quando c'è la lingua inglese, è in grado di tradurre quegli alberi di navigazione in scelte da fare sul display. Cioè anziché ascoltare e premere uno, vedrete le opzioni direttamente dal display da selezionare. E poi non solo, perché è capace anche di chiamare al posto nostro per fissare appuntamenti. Però, come detto, solo in lingua inglese. Mi stai dicendo che devo comunque chiamare mia suocera? Vi abbiamo già detto dunque che le riprese che state guardando sono effettuate direttamente da Pixel 7 Pro con la sua camera frontale in modalità 4K. Potete vedere in prima persona la qualità delle riprese. In questo caso noi abbiamo agganciato un microfono esterno, che è un'opzione possibile, ma se usate il microfono del cellulare sarà possibile anche migliorare l'effetto della voce grazie proprio ad uno degli algoritmi applicati dal vostro smartphone. Non solo perché ci sono altre cose molto carine, come il fatto che se caricherete le vostre foto scattate con altri smartphone o con altre fotocamere su Google Pixel 7 e Google Pixel 7 Pro avrete la possibilità di rielaborare quelle immagini utilizzando l'intelligenza artificiale a bordo del processore Tensor G2. Questa è una cosa che solo Google Pixel 7 e Pixel 7 Pro possono garantire. Insomma, ne parleremo ancora a lungo. Potremmo stordirvi delle caratteristiche tecniche, ma non lo faremo. Sappiamo benissimo che questo non sarà un best seller, sarà un prodotto di nicchia, ma chi sceglierà di comprarlo farà davvero un super affare. In particolare con il Pixel 7, che insomma a 649 euro è veramente un'alternativa molto, ma molto interessante. Quindi me lo regali per Natale? Non esageriamo, insomma è interessante, se lo volete vi toccherà comprarlo per i fatti vostri. Ci troviamo prestissimo su mrgadget.tech. Ciao! Grazie a tutti! Grazie a tutti!